Eccoci qua, benvenuti a tutti, siamo in diretta per l'ultima, ultimissima parte della nostra maratonina, piccola maratona che facciamo insomma in attesa di Revolution. Questo che facciamo adesso è un Q&A, una serie di domande e di risposte, 12 domande mi sono arrivate durante questa settimana, mentre stavo insomma creando l'attesa per questa puntata, e il problema è che sono poche, no sono giuste, volevo fare una mezz'ora 40 minuti e dire che con le 12 domande che sono arrivate, magari qualcosina che salta fuori in chat, riusciamo ovviamente a portare a casa il tutto. Il ringraziamento va a tutte quelle persone che fino a questo momento ci stanno seguendo, siamo partiti alle 2 con la review di Collision, poi alle 3 abbiamo fatto Sting by the Numbers, poi alle 4 abbiamo fatto Younger Games e adesso l'ultima parte. Ovviamente per chi sta guardando questo programma in differita, è già passato a Revolution, per chi sta guardando questo programma in differita, probabilmente sono già passate tante cose, sta di fatto che ci sono un po' di domande, ci sono un po' di risposte che si possono dare, ovviamente cercheremo di dare il massimo anche in questo caso specifico. Saluto intanto chi è arrivato, per esempio il nostro Bellero, ciao carissimo, ben arrivato, il nostro Chimer, ciao, ci sono anche le tue di domande Chimer, c'è anche Ace che dice rieccolo, infatti rieccomi, ho fatto già un paio d'ore, adesso mi faccio gli ultimi 40 minuti circa, Cliff, ciao caro, non passa nada per Ross, vedi che ho imparato, quante cose imparo. Ciao carissimo Shaka, sempre un piacere ritrovarci, ci sono anche le tue Chimer, ci sono anche le tue domande, assolutamente. Ecco qua anche Gabriele, ciao Gabriele, ben arrivato. Allora, 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 12 domande dicevamo, sono arrivate da 4 persone, ognuno me ne ha fatte 3, ci sono anche le domande di Gabriele ovviamente. Quindi di base io partirei, le ho preparate una ciascuno, sono 3 round da 4 domande ciascuno. Se man mano arriva qualche domanda interessante anche qui in chat, vado a inserirle ovviamente così rendiamo il tutto più scorrevole. Chiaramente io darò delle risposte che sono in base alla mia esperienza, al mio modo di farmi, al mio modo di agire, e ci mancherebbe altro, non sono risposte assolute. Per cui se mi volete aiutare anche dalla chat, magari dicendo la vostra, facendo qualche considerazione, sono assolutamente stracontento di portarle, e quindi sicuramente sarà interessante. Il nostro bellero ci deve salutare perché va in sala prove. Ciao carissimo, ho suonato nell'ora precedente a questa, mentre gli altri facevano gli Hunger Games. Bene, bene, bene. Partirei con la prima domanda. La prima domanda ce la fa Chimer, ed è una domanda strana, perché ovviamente dice quando tornerà Luciasaurus? Come faccio a saperlo? Luciasaurus non si vede da un po' di tempo. C'è al suo posto uno che si chiama Kill Switch, che mi sembra, insomma, stia abbastanza nell'ombra adesso, sufficientemente nell'ombra per essere pronto a breve, a tirar fuori unghie e denti. Allora, faccio questa previsione che già più o meno ho fatto durante le settimane di avvicinamento a Revolution, che sicuramente potrebbe essere delle cose più vecchie da dire in questo momento. Potrebbe esserci un'azione di Adam Copeland nei confronti di Christian, e ovviamente trovare Christian, che in qualche modo si ritrova senza titolo, e che dall'altra parte ha, diciamo, il problema da risolvere, chiamato la sua stable, Patriarchi dovrebbe chiamarsi, perché se Christian incolpasse la sua stable della sua sconfitta, quindi dell'aver perso il titolo, probabilmente ci potrebbe essere lui che si ostina un po' troppo contro Kill Switch, contro Nick Wayne, magari contro la mamma di Nick Wayne, e ovviamente a quel punto ci potrebbe essere anche un ritorno di Luciasaurus. Io lo vedrei molto molto bene come il Luciasaurus, magari proprio insieme a Nick Wayne, per andare contro Christian e Adam Copeland. I due potrebbero perdere all'inizio, proprio per dare vigore alla nuova coppia Adam Copeland e Christian Cage, e poi prendere in realtà una loro strada. Per quanto riguarda il ritorno di Luciasaurus, potrebbe avvenire in caso di Turnface, però io al momento non lo vedo. Ho fatto un Turnface, però a questo punto rimane il soltanto Christian, o un disastro. Diciamo che loro hanno un'idea molto chiara, molto precisa in testa, secondo me, di quello che devono fare. Noi facciamo un po' di fatica a leggerla, ma quando arriveranno concretamente tutti i passaggi che ci portano da dove siamo adesso a dove effettivamente saremo, anche soltanto fra una decina di giorni, allora ci sarà tutto un pochino più chiaro. Dal mio punto di vista, comunque, Luciasaurus, Kill Switch, chiamalo come vuoi, in qualche modo è un po' ai ferri corti con Christian. La vedo abbastanza così, poi dopo possiamo anche riparlarne, però, insomma, la vedo abbastanza così. Domanda di Gabriele. Non pensi che i titoli siano troppi, ma caratterizzati poco? Come le differenze resti? E non si rischia che International e Triple Crown siano troppo simili? Questa è una domanda in realtà molto ricorrente. nella sua primissima accezione, cioè non sono troppi i titoli. Nella risposta è per quanto mi riguarda, sì. Nel momento in cui le mettono tanti, c'è da gestirli. Allora, il punto chiave è posso gestire tutti questi titoli? Sì, chiaro, posso farlo. Come? È un problema che si basa essenzialmente sull'importanza che le persone tendono a dare ai titoli. Una federazione li potrebbe anche reputare tutti più o meno simili come valore. Diciamo, il titolo del mondo è sopra e gli altri tre, quindi TNT, International e Triple Crown, li mette simili. La verità è che il Triple Crown ha la possibilità di essere gestito al di fuori dell'elite. quindi concordando con la New Japan qualcuno che possa essere degno e non solo di portare quella cintura. Si può dare alla New Japan in mano il titolo per un po' e quindi dimenticarlo, no, in all'elite. Quindi già il fatto che un titolo rientri in corsa gli può dare una spinta e quindi questa già potrebbe essere una caratterizzazione possibile, no? Cioè ogni tanto ciclicamente lo fai uscire. Lo fai uscire di scena e poi rientrare. C'è la possibilità anche se io in questo momento non sarei d'accordissimo di vederlo ricicciare fuori in Ring of Honor, non sarei d'accordissimo non tanto perché non mi piace avere un titolo del mondo in Ring of Honor, quanto perché mi piace il fatto che al momento il titolo principale in Ring of Honor sia quello di Atina. Quindi se mi si mantiene il fatto che il titolo femminile è quello principale del Ring of Honor allora non ci voglio più indietro il Triple Crown. L'International ha senso quando tu lo vai tecnicamente a difendere in giro. Dall'altra parte si era partiti con un'idea di darlo agli europei poi questi europei non sono stati mai così considerati ma nella storia del wrestling americano è comunque non probabilmente gli si potrebbe dare una forma dandolo a qualcuno di particolare invento lo dai Malachi Black. Malachi Black è il lottatore che non lotta tutte le settimane ma che potrebbe avere un modo di creare faide che per quanto tendenzialmente rischiano di essere simili tra loro in realtà non lo sono ancora state cioè tutte le volte che ho avuto delle faide sono state le faide diverse prendiamo ad esempio quella con gli FTR è stata una faida in cui loro la House of Black diceva voi non avete amici e quindi in realtà è diversa dalle faide che hanno avuto precedentemente che mi hanno portati a vincere a perdere i titoli quindi di base io direi che forse è la persona che può differenziare meglio in questa fase i titoli con il titolo International lo dai a qualcuno che effettivamente non è americano che effettivamente potresti spedire da qualche altra parte ma che di base lo tratta in modo differente il titolo TNT a mio modesto parere dovrebbe diventare un pochino il titolo principale di Collision essendo Collision su TNT che non vuol dire prendere lo stesso livello lo stesso posto del titolo del mondo significherebbe però creare delle storie che vivono la loro propria avventura in quel di Collision e basta per quanto riguarda il titolo gli altri titoli beh c'è sempre il rischio che quando vengono gestiti senza grosse storie diventino problematici ora si è innescato secondo me un meccanismo per unificare i trios si potrebbe innescare un altro meccanismo per magari avere ciclicamente delle storie che si sviluppano in uno show oppure in un altro per esempio storie che mancano drasticamente sono quelle per il titolo tag perché anche gli FTR non hanno avuto le storie per il titolo tag così approfondite hanno avuto delle storie però non sono state approfondite così tanto bene non c'è mai stata veramente convinzione che qualcuno potesse portargli i titoli tanto che è stato quasi sorprendente vederli vincere da Big Bill e Ricky Starks quindi forse anche quello potrebbe essere un po' di imprevedibilità magari potrebbe dare caratterizzazione ad alcuni titoli un posizionamento preciso potrebbe dare un'idea oppure un posizionamento completamente impreciso completamente impreciso nel senso che potreste avere anche un titolo che un po' è quello che fa l'international che va a seconda della settimana a saltar fuori a Dynamite a Collision o a Rampage tanto per intenderci secondo me quello lì potrebbe essere interessante io non disdegnerei comunque una circolazione dei titoli sempre così non troppo non troppi cambi però darei più caratteristiche peculiari specifiche che fino hanno fatto i vari Miro Pack allora Pack è rientrato dagli infortuni nelle settimane scorse ma in piena 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 corsa revolution quindi era impossibile aggiungerlo da qualche parte ed era stupido metterlo nel 8man scramble match probabilmente qualcosina succederà a breve con lui perché comunque è un amico di Tony Nican ci tiene moltissimo quindi uno spazio glielo trova però è tornato veramente da poco per quanto riguarda Miro tecnicamente lui è disponibile ma non credo sia disponibile la moglie con cui ha comunque intracciato la storyline World's End quella fuoriuscita di Andrade e quindi finché non è disponibile al 100% la moglie che non può essere lì e fare difficilmente lo vedremo poi magari adesso è tornata al 100% è abile arruolabile anche lei ma c'è il problema che appunto magari è successo nel mezzo delle storie più importanti per Revolution quindi direi che con la notte di Revolution dovrebbero chiudersi diversi capitoli e magari se ne aprono poi degli altri che portano a delle a delle situazioni nuove una delle quali potrebbe essere appunto il ritorno di alcuni di questi lottatori vedremo e quindi spero Gabriele di aver fatto un po' così un ragionamento è stato un ragionamento molto molto abbraccio quindi non è che ci ha pensato moltissimo prima magari si approfondisce anche un pochino questo discorso che è comunque una domanda interessante Sara invece dice dato per scontato che Kingston mantenga il Triple Crown chi potrebbe essere il prossimo sfidante lei ovviamente sogna una caratterizzazione specifica di questo di questo titolo basandosi sull'importanza che questo titolo dovrebbe avere non per noi ma in generale perché probabilmente giustamente anche lei denota il fatto che ci sono tante persone che non hanno probabilmente idea di quale sia il valore del Triple Crown a volte lo vediamo anche nel nostro proprio Telegram a volte lo vedo anche su YouTube nei commenti c'è gente che dice ma che cazzo vuol dire Triple Crown ma perché si è iniziato a portarsi dietro a tre cinture e ovviamente è una situazione che unisce due mondi quello dell'Aurelite e quello dell'All Japan dove dal 1989 la cintura principale è un Triple Crown che soltanto a un certo punto è diventato un'unica cintura ma comunque all'inizio erano tre cinture portate tutte insieme dai vari detentori e questo Triple Crown diventa di base il titolo della All Japan quindi è un'accezione storica quella che si è voluta dare con questo Triple Crown americano in All Elite che in questo momento ha Kingston io sono convinto che Kingston mantenga contro Brian Danielson il prossimo sfidante io mi auguro seriamente che sia qualcuno con cui si possa creare una faida importante e che magari si possa portare fino a una Forbidden Door Forbidden Door dove in realtà il Triple Crown potrebbe essere un po' il titolo principale quindi anche per quello mi piacerebbe che fino a Forbidden Door lo tenesse Kingston per dargli importanza probabilmente ci vuole del tempo ancora perché le persone capiscano l'importanza ci vuole del tempo io sono convinto che comincerà ad acquisire importanza la prima volta che uscirà dalla All Elite e capiremo che capiranno le persone che è ambito anche da quelli che stanno fuori e un'altra possibilità sarà quando il detentore del Triple Crown dovrà cedere le cinture all'inizio del prossimo torneo quindi in realtà non è proprio prestissimo che le persone capiranno lo capiranno perché ovviamente questo qualcuno che lascerà giù quelle cinture sputerà il sangue per non farsene portare via lì capiremo l'importanza che ha questo titolo che è un po' il tentativo che hanno cercato di fare con Orange Cassidy e l'International vedere che lui nonostante tutto nonostante fosse infortunato distrutto mezzo rotto cercava sempre di mantenere il titolo di tenere il titolo perché si era un po' innamorato come di Gollum dell'Anello quindi di base io credo che sarà un po' questa la situazione per il prossimo sfidante quindi chi potrebbe essere futuribile per un match della Madonna e per portare via il titolo a Kingston io vado con Shingo Shingo Takagi che è un lottatore che l'anno scorso nel climax ha fatto un match contro Kingston e probabilmente potrebbe essere la persona giusta sia per detenere questa cintura per portarla fuori con grande orgoglio e anche per poi essere davvero un papabile grande avversario anche per i pay per view dell'Aude Elite fermo restando che Shingo è abituato anche a lottare in Europa è abituato a lottare in Inghilterra non sarebbe neanche male portarselo pure a Wembley per fare magari uno showcase o qualcosa del genere insomma sarebbe divertente interessante quindi dopo Kingston mi auguro un personaggio almeno della caratura di Shingo Shingo l'ho già visto lottare con Kingston so cosa possono fare ed è tanta 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 roba quindi sicuramente loro sono molto interessanti quindi passiamo alla domanda successiva di Viva Genzo che dice secondo te potremmo vedere un inizio di split nel Blackpool Combat Club secondo me no o lo vediamo in prossimità di All In e vediamo effettivamente una sfida interna al Blackpool per la fine della carriera da performer full time di Bryan Danielson quindi Bryan Danielson contro John Moxley che è un po' quello che ha generato il tutto nella revolution di due anni fa se ci pensate dell'anno scorso l'anno scorso due anni fa credo due anni fa e sostanzialmente sarebbe l'ideale dal mio punto di vista cioè vedere l'ideale no sarebbe una buona scelta vedere un match tra Moxley e Danielson che chiude un pochino il discorso tra i due che butta fuori in qualche modo Danielson ma non in modo negativo semplicemente i due lottano e alla fine vince Moxley e alla fine Moxley dice non ti preoccupare perché il Blackpool è in ottime mani cioè nelle mie Blackpool non ha motivo di sgregarsi non c'è non c'è motivo funzionano bene lavorano in singolo lavorano in coppia lavorano uno contro l'altro l'abbiamo visto al torneo quando Danielson e Castagnoli hanno avuto modo di scontrarsi cioè non c'è assolutamente problema loro si possono scontrare uno contro l'altro domani senza motivo con motivo non c'è problema quindi lo split mi sembra abbastanza illogico fermo restando che Castagnoli quando ha avuto il titolo Ring of Honor non è che abbia brillato tantissimo credo che faccia bene a lui avere una stable di riferimento perché ogni tanto si può tornare a fare qualcosa insieme ad altri sul ring è un cazzo di fenomeno fuori un po' meno e avere un John Moxley con cui lui lavora molto bene potrebbe essere ovviamente una buona strada quindi no non ce lo vedo tanto lo split non ce lo vedo tanto lo split onestamente non so neanche se mi interessa vedere uno split cioè poi io non sono molto amante di questa cosa dove per forza di vedere due che litigano per non stare più insieme è una cosa un po' bambinesca un po' un po' vecchia vedendo quanto si è amato Cody in WWE potevano fare di più in AEW allora posso darti una risposta è molto molto difficile questa domanda partiamo da un presupposto io non so quanto si è amato Cody in WWE perché io guardo solo i PL quindi cerco di medesimarmi un pochino nei match che fanno nei premium live events ma non ho voglia di guardare Rose, SmackDown, NXT tutte quelle robe lì perché il mio tempo a disposizione non lo voglio dedicare a qualcosa che fino a due anni fa seguivo e non mi piaceva quindi non so esattamente la misura dell'amore che hanno per Cody la AEW con Cody non ha fatto niente il problema reale è che Cody si è gestito da solo in AEW anche quando Tony Khan ha preso in mano le storie scontento di come gli Young Bucks stavano conducendo la loro la loro storia e ha preso in mano tutto lui non ha preso in mano le storie di Cody di cui si fidava ciecamente erano praticamente culo e camicia e quindi e quindi non lo so non lo so secondo me secondo me è stato lui a fare quello che ha fatto e a gestirsi e a non riuscire a prendere il pubblico della WWE e penso che i motivi siano diversi il pubblico della Lolita è un po' più smart un po' più intelligente da certi punti di vista vuole vedere la gente che si mena vuole vedere delle storie fatte in un certo modo Cody non rappresentava esattamente quello era uno di quelli che il pubblico voleva a gran voce che diventasse Hill e lui non ha voluto diventare Hill ok in All Elite si era tagliato le gambe da solo con il discorso di non poter andare per il titolo quindi il TNT sembrava se lo fosse creato per lui c'è c'erano una serie di concomitanze per cui il pubblico secondo me rumoreggiava fin troppo quando è andato in WWE sono due motivi essenziali per cui lui è diventato così tanto face e il primo è perché lui è bravo comunque e quindi le persone accettano che lui sia face in questo modo qua il secondo è perché lui è uscito dalla All Elite e c'è tanto pubblico della WWE che odia attavicamente nel profondo nelle radici del proprio cuore la All Elite e Cody rappresenta il figlio il prodigo Cody rappresenta quello che è uscito di sua sponte dalla IW ed è andato ed è tornato in WWE Cody rappresenta quello che loro vorrebbero facesse tutto il mondo dell'Elite cioè che si disgregasse che tutti fossero scontenti e uscissero dalla IW per andare eventualmente in WWE se sono buoni oppure perdersi nelle indie se non sono così buoni quindi Cody è una specie di oracolo ed è per quanto stupido bambinesco è esattamente quello che si vede sui social e in tante altre circostanze quindi il pubblico IW ha fatto quello che ha potuto con Cody ha provato a indirizzargli la strada Cody non ha voluto ascoltare ha fatto bene ad andare in WWE certo si trova bene meglio in IW era abbastanza chiuso il tutto e non importa quanto tu dai nel wrestling non importa un cazzo quello che tu dai l'importante è soltanto quello che in quel momento le persone vogliono e lui è così allora il controllo dei bugs l'ha preso quasi subito dopo revolution del 2020 la prima faida che hanno avuto in pandemia non mi ricordo esattamente come era come era andato il fatto ma ha voluto iniziare a scrivere tutto lui tranne le cose di Cody non gli era piaciuta la gestione che avevano avuto del post match con Omega e Hangman quindi di base non se l'è sentito di mandare avanti il discorso di libertà totale è un po' ragionamento da se Milano aveva tre palle cioè sono contesti pubblici e momenti diversi ma guarda io penso di poter aver letto abbastanza bene il ragionamento del popolo dell'aula elite del pubblico dell'aula elite perché di base era un po' quello che pensavo io cioè Cody era sbagliato nel momento in cui stava facendo quello che stava facendo e non riusciva a capire di dover essere Hill e dato che essere Hill è più facile che essere Face secondo me Cody voleva diventare un po' suo padre il problema è che non puoi diventare qualcun altro tu sei tu i tempi cambiano le cose cambiano se non avessero creato il nemico perfetto in Roman Reigns anche in WWE si sarebbero rotti il cazzo di Cody Face perché Cody Face è sempre la stessa cosa che continua a rimuginare e occhio perché il pubblico a un certo punto capirà che questa storia del papà ha rotto i coglioni nel finire la storia che suo papà non ha mai iniziato suo papà è andato in WWF non è mai per diventare campione del mondo ma mai nella vita ma lo sapeva già è arrivato in un momento in cui non c'era lo spazio giusto per lui zero e quindi è tutta una montatura creata così ad hoc perché ancora se tu parli di Dusty Rhodes la gente giustamente anche si sbrodola ma non è reale prima o poi si capisce che questo castello di carta viene giù viene giù assolutamente e gli tiravano indietro le cinture assolutamente assolutamente un baby face puro non funziona nei W vedere Max e Adam è il dressing moderno che vorrebbe così purtroppo purtroppo non è sempre facile essere bravi questa è la parte più difficile di essere un lottatore nei tempi moderni nei tempi antichi ti bastava ma non troppo antichi ti bastava essere Edge e Christian che entrano con le magliette delle squadre avversarie per essere il oggi è molto più difficile molto più difficile esatto quando Cody torna a casa fu chiamarlo figlio del prodigo è vero comunque perdonare la bomba della domanda no non penso che la IW avrebbe potuto fare di più ma non penso nemmeno che avrebbe dovuto fare di più quindi Kimmer chiede ma se il Dib Dojo diventasse una stable chi ci vedreste dentro allora questa domanda mi è piaciuta tanto tanto che la farò diventare un un contenuto anche sui nostri social cioè andrò sui social in questi giorni Kimmer me lo ricorderà martedì mercoledì andrò sui social in questi giorni a creare proprio dei una domanda di questo tipo cioè se il Dib Dojo diventasse una stable chi ci vedreste dentro perché effettivamente io me la immagino perché me la voglio immaginare così una stable al femminile e me la vorrei immaginare con dentro della gente che deve crescere allora a questo punto ci sono delle ragazze che per quanto siano green sono già caratterizzate e pronte e l'esempio non è solo sky blue è qui naminata per esempio qui naminata è già caratterizzata ed è già pronta lei se dovesse far parte di una stable ne farebbe parte con grande spessore e vigore io un Deep Doge lo vedrei più come delle giovani rampanti e allora a questo punto ci butterei dentro se devo avere lei come leader della gente che deve imparare sotto di lei ci metterei dentro Robin Renegade e magari sua sorella quindi le due Renegade ce le vedrei alla grande e ci vedrei dentro Red Velvet che secondo me potrebbe fare invece molto bene dato i miglioramenti che ha mostrato recentemente quindi sicuramente lei si e poi andare a pescare una lottatrice magari dalle federazioni indipendenti che è giovane e che ha possibilità perché se abbiamo avuto già forse il miglior acquisto possibile con Billy Starks che sta già crescendo esponenzialmente vicino a una come Atina io andrei a rischiarmene un'altra me la porterei lì da Serena Dib per fare un percorso simile quindi direi le due Renegade direi Red Velvet è una nuova quasi completamente nuova mi piacerebbe una cosa di questo tipo però è veramente una bella domanda quindi secondo me interessante chi mi ha ronto a zardare Gabriele che cazzo gli metti in testa io metterei anche una già allenata a fare da spalla in questo caso potresti metterci Red Velvet Red Velvet secondo me in questo momento è una di quelle su cui potrei puntare a zardare anche un Anna Jay ma secondo me per Anna Jay sono già maturi certi piani e quindi a questo punto Red Velvet comunque molto interessante la possibilità di Deep Dojo come stable molto 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 interessante Gabriele chiede invece se dovesse arrivare anche Okada poi lui permetteva il fatto che due titoli nei W non ce li vuole neanche lui non si rischiano due titoli del mondo non si rischiano di avere troppi main eventer con la fine dei regni mondiali medio-lunghi e conseguentemente una certa saturazione io non sono così convinto che il titolo del mondo debba avere dei regni più corti o meglio può succedere con Samoa Joe Samoa Joe secondo me oltre Double or Nothing non ci va con il titolo la mia percezione personale però ti posso dire una cosa ti posso dire che ad oggi una delle persone che più vogliamo vedere con il titolo è Swerve e Swerve non è Okada Swerve non è Jay White non è uno di quelli che è arrivato già pronto Swerve è stato costruito e tu hai costruito Swerve attraverso delle faide ora se arrivasse Okada ipotesi e lo mettessi subito per il titolo e Okada vincesse subito il titolo nessuno avrebbe nulla da dire se Jay White fosse arrivato fosse andato subito per il titolo nessuno avrebbe avuto niente da dire il punto però è che servono delle belle storie quindi se Okada all'interno di questo momento frenetico intorno al titolo dovesse entrare ma io ci vedrei molto un Eggman che in realtà gli va faccia a faccia e gli dice ascolta già volevo fare il match contro di te quando c'è stato Forbidden Door e poi l'hanno fatto diventare un 4 contro 4 se adesso vieni qua e il titolo rischia di andare a Swerve che io odio e tu ti metti in mezzo e magari mettendoti in mezzo rischi di fargli arrivare veramente il titolo a Swerve e dato che tu sei Okada io ti batto e torno io per il titolo perché non ci voglio vedere Swerve per nessuna ragione al mondo già Okada una prima storia con un performer della Madonna con cui può fare 2-3 match e tenersi per 6 mesi occupato costruendosi facendosi conoscere bene dal pubblico americano e dimostrandoci di poter essere in grado di portare avanti questa situazione che è lo show settimanale perché onestamente per il momento non sappiamo se Jay White è in grado di portare avanti lo show settimanale così come siamo sempre stati abituati a vederlo perché lo ha fatto ancora troppo poco certo che quando è stato presente è sempre stato all'altezza e come certo che quando doveva parlare ha parlato quando doveva lottare ha lottato però in realtà non abbiamo ancora visto fare qualcosa di veramente importante girato per un po' di tempo quindi non lo sappiamo nemmeno di Okada che se la caratura del lottatore mi porta a pensare che sarà sempre considerato un fenomeno da tutti dall'altra parte ti posso anche dire ma se poi non è così fenomeno nel fare stabilmente puntata dopo puntata le storie e tutto quello che serve allora a quel punto comincia a metterlo sotto e se tu sotto il titolo del mondo hai delle faide tipo Angman Okada tipo pigliamone altri due Jay White e Kenny Omega è chiaro che man mano che si va avanti si possono creare delle situazioni per cui tu la faide di Angman e Okada la fai vincere a Okada poi Okada in qualche modo si perde dietro altro Angman vince il titolo e quando Okada si presenta davanti a Angman gli fa io l'ultima volta se non ho sbaglio ti ho battuto quindi tu hai la possibilità di creare dei mostri di storyline giganti magari con dentro due o tre lottatori importanti e fare in modo che questa cosa ricicci fuori dopo un po' quindi non è neanche stupido che ci siano tanti main eventer oltre al fatto che per lo stile di lotta per il modo che si ha di lottare dei tempi moderni per il numero di incontri che si fanno di un certo livello di un certo tipo è anche possibile che un main eventer dietro l'altro si facciano male tu devi avere ricambio devi avere ricambio quindi se hai la possibilità di ricambiare di buttare in piedi qualcosa di interessante perché hai gente in casa forte pronta preparata perché hai comunque lavorato tanto è molto meglio molto molto meglio perché poi un infortunio può essere un infortunio sul ring un infortunio può essere la diverticolite che ha avuto Kenny Omega e quindi anche cose impossibili da pronosticare per cui bisogna essere bravi e gestirla bene se la gestisci bene puoi averne dentro anche 200 di persone brave e puoi mantenere comunque i regni medio-lunghi è tutta una questione di costruire sotto più costruisci sotto meglio è secondo il mio punto di vista secondo Kada Fightful allora allora ni diciamo che ci sono diverse persone che dicono che o debutta mercoledì o non debutta più vediamo vediamo stasera potrebbe comunque arrivare qualcuno che manca da un po' più che qualcuno nuovo c'è Big Business a breve io Big Business lo tengo lì perché qualcosa potrebbe succedere lì dentro vediamo Sara dice la storia della Bang Bang Scissor Gang per ora non mi convince a parte l'eventuale unificazione di titoli non vedo altri sbocchi ma non hanno un po' perso il momento giusto ormai allora se me lo avessi chiesto qualche giorno fa avrei detto di sì in realtà dopo l'inconveniente capitato a Max Caster del rap che non riesce ad andare avanti io credo che lì ci sia stato un po' un punto di svolta perché l'hanno reiterato l'hanno fatto ancora anche a Collision quindi adesso arrivati a oggi è tardi probabilmente per chi ci recupererà dopo però io penso che succeda qualcosa a Revolution e se succede qualcosa a Revolution siamo nei tempi giusti per un prossimo evento importante che può essere un pay per view o può essere una puntata speciale non tutte le storie che vengono create vengono create per andare e finire in pay per view lo dice la storia anche delle delle faide nate in puntata possono finire in puntata delle faide nate a Rampage possono finire a Dynamite possono finire a Collision e viceversa quindi c'è fluidità in questo sugli sbocchi del futuro sicuramente ci sono due sbocchi possibili cioè due situazioni possibili l'unificazione deve per forza andare a favore di Jay White e famiglia e tra l'altro potrebbe accadere anche grazie al rientro di di Julius Robinson dall'altra parte bisogna smettere di avere Billy Gunn insieme agli acclaim perché gli acclaim sono molto bravi ma in coppia in tre osso sono molto sprecati e quindi due possibilità sono la prima quella di vedere i titoli che vanno in una direzione e solo una la seconda quella di vedere splittare di fatto un trios senza litigare senza altro vederli semplicemente splittare e a quel punto liberare gli acclaim che possono magari riprendere una strada diversa la vedo come l'unica soluzione realmente possibile poi da lì in poi i titoli trios unificati possono diventare ovviamente oggetto del contender di tantissimi altri roster per cui da lì si riparte praticamente con una fresh start credo che comunque l'unificazione sia la base per far ripartire qualcosa e dovrebbe essere questo il momento giusto per far togliere da DS il mio modestissimo parere scusate ho tolto l'audio un attimo per tossire forse quell'avversario per il triple crown che dicevamo no perché Okada ha detto una cosa inequivocabile lui ha detto io lascio la new japan per non guardarmi mai più indietro e se gli dai il titolo triple crown c'è dentro un titolo della new japan quindi Okada non può essere quella persona mi dispiace immagino tu ti riferischi ai trios sì 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 stanno giocando no no secondo me non ci arrivano non arrivano l'undisputed kingdom quella è una strada persa i trios che si sono messi insieme hanno usato quella scusa ma non hanno mai poi una volta una volta che si sono messi insieme non hanno mai poi pensato anche solo minimamente di andare di là neanche neanche per un istante quindi quella pista è freddissima se la ritirano fuori e lì siamo un po' veramente over time ma troppo ma troppo troppo andiamo oltre domanda di viva genzo dice c'è la possibilità che dopo il match di roderick strongland disputed kingdom malmeni e infortuni cassidi sì ma che pro nel momento in cui cassidi perde perde basta io se c'è una cosa che cambierà nel mondo del wrestling in realtà in all elite non sempre l'han tirata fuori mi auguro che non lo faccio è la clausola di rimatch quella è una è una boiata fa schifo ma è una merda proprio hai perso il titolo basta maledettissima rete che mi ha abbandonato per un attimo che poi vi fa comodo il discorso della clausola di rimatch quando è un lottatore a perdere il titolo che a voi piace ma quando è un lottatore che non vi piace peccato che c'è la clausola togliamola e basta siamo seri e togliamo il problema allora il punto è che cassidi è già infortunato e questa storia ha ricalcato un po' la storia del primo regno e non mi è piaciuta il primo regno e non mi piace neanche adesso i lottatori che lottano infortunati per me sono da togliere e e non c'è bisogno poi di fare oltre malmenare infortunare no cassidi dovrebbe prendere la sconfitta come tale e andarsene poi c'è chi dice che ci sarà proprio kylo riley che torna questa notte e va a malmenarsi con cassidi e da lì in poi ci sarà una faida tra cassidi e kylo riley che porterà la vittoria di kylo riley che si farà così la prima faida vittoriosa all'interno dell'undisputed kingdom può darsi può darsi però non penso che vadano a infortunarlo anche perché cassidi nel momento in cui non ha più la cintura sta fuori due o tre settimane già per i cazzi cioè perché non ha più la cintura torna e te lo riprendi esattamente come era prima non è non è il caso in cui serve così tanto la connessione vuole il rematch esatto madedetta connessione è una di voi la connessione è una di voi infatti paradossalmente col disastro di mox hanno bypassato il problema del rematch sì 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 praticamente sì però io veramente il rematch mamma mia mamma mia mamma mia secondo me O'Reilly torna quando e no ci vuole troppo tempo se O'Reilly davvero è pronto al rientro non c'è motivo di aspettare anche perché O'Reilly quando torna comunque si butta in una situazione amichevole per la sua stable punto e basta e quando torna non ha bisogno di titolo non ha bisogno di niente bisogna solo di lottare quindi se torna e c'è Cassidy già va bene già va bene così Kimmer chiede credete che dopo la parentesi Allin Sting possono lanciare le cinture a una nuova coppia giovane per mettere alla prova però la cintura la prendono i Bucks stanotte e e quando la mollano la devono mollare a un duo face e un duo face giovane mi viene in mente soltanto Top Flight sai che non lo so sai che non lo so sono sempre più dell'idea che in O'Reilly le coppie le vogliono gestire in un modo un po' diverso e che saranno sempre di più i due singoli che si mettono insieme che è un po' una roba più giapponese che americana gli americani esiste sarebbe un discorso molto molto lungo da fare sulla storia americana dei tag team e di come siamo arrivati ad avere i tag team come ne abbiamo conosciuti poi nell'epoca in cui il racing è arrivato maggiormente in Italia cioè negli anni 80 però la maggior parte delle coppie sono semplicemente due singoli che si mettono insieme questo nel mondo questa è una cosa che secondo me la All Elite porterà sempre di più cioè la concezione di coppia ci sarà ma sarà inferiore rispetto a quella che abbiamo pensato potessero fare all'inizio sui giovani anche li dipende quanto giovani cioè tipo i private party sono giovani ma sono lì da 5 anni almeno è già qualche anno di carriera alle spalle prima ce l'avevano sì sono giovani ma anche se stiamo parlando di due giovinotti i top flight comunque sono lì da 3 anni è dura pensare a qualche coppia giovane soprattutto che conosciamo già però sicuramente il passaggio dopo dopo questi EVP ha due face e al momento coppia giovani face non ce n'è non ce n'è vedremo vedremo Gabriele chiede appena ritorna MGA fandrai faida con Adam Cole speriamo senza titoli altrimenti il tutto decade è certo sarebbe la prima faida per entrambi i posti infortunio chi fai vincere ehm stai dando per scontato due cose la prima è che andranno in faida la seconda è che torneranno più o meno insieme bisogna vedere perché per Adam Cole potrebbe non essere la prima ehm la prima faida o dall'altra parte per MJF non potrebbe potrebbe non essere la prima faida il punto chiave sarà capire come ritorna MJF perché Adam Cole lo sappiamo già come torna Adam Cole torna convinto che MJF non sarà più della partita e se Adam Cole torna con quella prospettiva deve lavorare come se MJF non esistesse in questo caso quindi deve andare a cercare di prendere il titolo oppure andare a portarlo via a Wardlow oppure a farselo dare da Wardlow e occhio perché la prima faida in realtà di Adam Cole potrebbe essere contro Wardlow e e a quel punto se la prima faida è contro Wardlow non lo so diciamo che se hanno già preparato qualcosa di scritto è molto meglio perché loro saprebbero come navigare in queste acque se non l'hanno preparata ma come noi stanno cercando di capire cosa potrebbe succedere quale potrebbe essere la strada migliore si rischia veramente di creare una situazione brutta questo perché perché in realtà se tu hai scritto una storia e porti avanti le pedine perché si arrivi a quello schema quella situazione è un conto se tu vai di settimana in settimana qualcosa ti perdi e allora se conosco Tony Khan un minimo lui ha scritto una storia la vuole portare avanti no matter what c'è da capire quanto inficerà questo sull'eventuale futuro di questi performer e soprattutto bisogna capire se quando tornano quali saranno le loro condizioni contrattuali perché in fase di revisione dei contratti chiaramente bisogna lavorare molto bene con tutti Tony Khan ha dimostrato di voler lavorare bene con la maggior parte delle persone anche con chi non si vuole fermare in un'elite questo non significa molto bisogna lavorare molto bene io penso che MJF potrebbe andare in faida con Adam Cole potrebbe andare in faida con Wardlow potrebbe andare in faida con potrebbe anche tornare e cercare Adam Cole e gli altri essere fermato da qualcun altro qualcun altro che lui non si immagina nemmeno possa volerlo fermare è una strada impervia quella di MJF perché MJF ha pestato molti piedi quando era Hill e involontariamente ne ha pestati molti anche quando era Faze pensa agli Acclaimed quindi in realtà lui è un pestatore di piedi e questo non è facile da gestire perché tanti potrebbero avercela con lui quindi vediamo vediamo è una situazione che spero proprio l'abbiano scritta bene ma molto molto bene Sara chiede c'è il rischio che Will Osprey non si adatti ad una major americana sempre su Osprey meglio Hill o Faze allora è possibile che non si adatti ad una major americana ma io penso che lui sia un po' come Jay White cioè una persona che dovremmo misurare nel tempo per esempio Jay White le volte che l'abbiamo visto entrare in contatto con il modello settimanale ha fatto molto bene per Osprey per il momento quello che ha fatto l'ha fatto molto bene è già arrivato a un primo Dynamite dove non ha fatto praticamente un cazzo stanotte lotta con Takeshita e poi da lì in poi da qui in poi da oggi in poi andrà misurato andrà pesato nel tempo il primo che fra due settimane tre settimane mi dice hai visto è già pronto oppure arriva e fa hai visto non è pronto ovviamente merita una testata io penso che il primo anno sia l'anno in cui valuteremo molto bene è passato per esempio un anno da Jay White e per adesso la valutazione è positiva non è ancora passato un giorno di Osprey e quindi prima che qualcuno arrivi a dirmi vediamo per quanto riguarda meglio il o face secondo me in questo momento lui è face naturale perché fa delle performance troppo importanti e quando fai delle performance così importanti è difficile che tu non sia amato dal pubblico quindi o è veramente bravo Gerard Seal o fa qualcosa di boh non so cosa possa fare oppure al momento è face nel tempo quando sarà normalizzato Will Osprey sicuramente da Ilem è interessante però fare il face è più difficile quindi mi piacerebbe prima vedergli fare un bel periodo da face sì prima vorrei fargli vedere vorrei farmi una scorpacciata di lui da face penso di far abbattere tutti gli ex campioni per poi mandarlo al titolo è una strada ma non serve neanche tanto questo occhio però Kaleido perché è vero che ne ha battuti tanti gli ex campioni e così via ma Will Osprey ha un problema e c'è che lui ha fatto un 2023 assurdo dove ha vinto tutto perché ha vinto di tutto e di più è partito nel 2023 perdendo il 4 gennaio da lì in poi ha praticamente vinto la qualunque tranne alcuni punti chiave per non fargli vincere il titolo della della New Japan chiaramente ma anche le sfide fuori le ha vinte praticamente tutte e poi ha iniziato il 2024 perdendo tutto perché sì perché tu gli hai fatto fare una run allucinante e da lì in poi e da lì in poi quell'anno lì è stato l'anno dello shine più totale adesso devi ripartire ricostruire quindi ne perderà secondo me stasera perde con Takeshita tanto per iniziare si formerà l'Empire anche in AW non lo so non ne ho idea so una cosa però il New Japan aveva un gran senso ce l'avrebbe in un Elite non credo quindi quindi vediamo sicuramente se dovesse riformare lo United Empire o ci mette dentro qualcuno di nuovo o diventa abbastanza più la rete la rete la rete la rete dicevo che se dovesse riformare lo United Empire e metterci dentro un nuovo agente dell'Eole Elite è un conto se no se dovesse mantenere soltanto quelli che erano già quindi gli assi open per esempio e dovesse rimanere un po' così tutte le volte che un nuovo personaggio un personaggio della United Empire che finisce il suo contratto in New Japan per esempio tutti gli aspetti che arrivino l'Elite insomma non so se è proprio la cosa ideale davvero un nuovo nome grosso firmato per della prima ci può stare ma ci vuole fegato non ci vuole fegato non ci vuole fegato ha qualcosa a che fare con Don Callis seriamente Will Ospreay no a Will Ospreay serve Don Callis no Takeshita è il nome giusto perché ha battuto Omega perché ha battuto Gerico per andare a battere che sono stati due delle vittime di Ospreay nell'anno scorso è il nome giusto per ladrando ovviamente andare a battere Will Ospreay e se vai a battere Will Ospreay Will Ospreay non parte da io ho battuto Takeshita che ha battuto Omega che ha battuto Gerico parte da io ho perso da Takeshita e da lì puoi costruire uno come Ospreay altrimenti lo mandi per il titolo fra tre minuti non puoi farci niente cioè quando arriva uno così grosso è un po' il discorso che facevo quando è arrivato Adam Copeland quando arriva uno così grosso un nome così grosso lo devi normalizzare o dargli in mano subito tutto se non lo normalizzi è un disastro e come fai a normalizzare uno come Ospreay lo fai perdere perché tutti pensano che sia invincibile e invece te lo fai perdere contro chi contro la tua rising star e la gente lo sa la gente sa che questo è un performer coi controcazzi perché Takeshita è un performer coi controcazzi e tutti lo sanno e una volta che lui ha perso contro Takeshita in modo sporco ma ci mancherebbe altro però a sto punto boom lo disintegri e lo ricostruisci da capo e te lo ricostruisci a tua immagine e somiglianza della tua federazione io non ci vedo niente di assurdo assolutamente niente di assurdo Takeshita in un futuro vedresti bene come campione triple crown Takeshita si Takeshita è cresciuto con il sogno di diventare campione triple crown in all japan e quindi vorrebbe diventare campione triple crown l'ha detto chiaramente non hanno potuto metterlo nel torneo perché per lui ci sono dei piani diversi ma si io un giorno vedo triple crown champion assolutamente si e e potrebbe essere il titolo prima del titolo del mondo perché Takeshita un giorno deve vincere quel cazzo di titolo del mondo perché io lo so che voi volete molto bene a Osprey a Okada a tutti questi qua ma Takeshita è veramente più forte di tutti questi perché è già questo ma ha 5 anni in meno almeno Takeshita è già a quei livelli ma ha almeno 5, 6, 7 anni in meno dove cazzo può arrivare lui lo sa soltanto lui quindi Takeshita è effettivamente il futuro al momento il performer in ring migliore in assoluto che hai ma migliore a mani basse bassissime perché lui è un cazzo di fenomeno ma davanti 5, 6, 7 anni in più di carriera ed è già a quel livello lì e non sono molti nell'universo non c'è molta carne di questo tipo qua per quanto riguarda questa frase sono tornato a seguire la EW da poco in atti cos premoné mi dispiace tanto perché perché una federazione una promotion non si devono guardare per gli interpreti si deve guardare per quello che rappresenta per quello che è per quello che ti dà se tu seguissi un giocatore non ti innamoreresti mai di una maglia quindi se diventi vedo che ti chiami il Juventino se tu diventi Juventino perché c'è Pogba nel momento in cui Pogba lo trovano doppato che va via tu non sei più Juventino non segui più il calcio tu sarai innamorato dei colori della tua squadra e quindi giustamente è uguale devi fare con una federazione con uno sport deve piacerti l'interprete sì ma se ti piace per l'interprete ti deve piacere il contesto in cui l'interprete si può muovere non ti deve piacere l'interprete altrimenti non è passione per il wrestling ma è passione per gli interpreti che completamente contraddire la passione per il wrestling ultima domanda andiamo a prendere l'ultima domanda di viva Genzo che dice Adam Copeland se interviene fa un attacco fa un attacco a Christian o fa Daille e fa perdere Garcia con la scusa di volere il titolo come fece una rivalità tra Daniel Bryan e Roman Reigns io non so non ho visto la rivalità tra Daniel Bryan e Roman Reigns non so cosa ha fatto Adam Copeland nell'ultima run in WWE perché ha smesso di seguire praticamente poco dopo il suo arrivo e quindi non ho idea di quello di cui si sta parlando per me attacca Christian e fa vincere Daniel Garcia se lo fa è possibile che si inneschi un meccanismo che porta Christian a staccarsi dalla sua famiglia la sua stable è comunque il momento per togliere il titolo a Christian è comunque il momento per vedere una faida che si completa bene tra i due senza il titolo in mezzo quindi Adam Copeland che di nuovo mette il focus su Christian e non sul titolo che ha Christian perché una volta che ti hanno portato via tutto quello che hai tu lotti semplicemente per l'orgoglio per la sopravvivenza quindi io la vedo così ho fatto almeno almeno 20 minuti in più di quello che pensavo di fare meno male che sono state solo 12 le domande a questo punto a ritratto erano poche no erano giuste mi ha fatto piacere stare qua a fare questo Q&A è stato interessante sicuramente ringrazio la chat per aver portato oltre che qualche domanda anche qualche considerazione interessante e vi rimando ovviamente a godervi un ottimo revolution che sicuramente ci aspetta e a godervi del buon wrestling in generale c'è tanta tanta roba bella in questo periodo godiamocelo è un periodo molto florido per il nostro wrestling questa nostra passione gigante che abbiamo quindi cerchiamo di godercelo questa notte per chi sta guardando in diretta adesso facciamo la live reaction del pay per view ci trovate sempre sul canale twitch il lato vero del ring io sono Stefano la voce di IW Italian Podcast noi ci rivediamo alla prossima